Ma noi giocatori abbiamo tutta la rosa dell'anno scorso, stiamo cercando di migliorarla, di smontarla, perché il gruppo era ottimo. Quindi abbiamo la difesa che è stata la migliore del campionato, l'attacco non è stato uno dei migliori del campionato, quindi sappiamo da soli dove dobbiamo provare a intervenire. In quest'ottica stiamo cercando di migliorare, inseguendo dei profili che abbiano determinate caratteristiche. È chiaro che non possiamo inseguire un profilo che di per sé è già affermato, che costa delle cifre iperboliche. Noi dobbiamo inseguire profili di giovani che hanno avuto dei momenti buoni, che hanno dato aspettative importanti e che per qualche motivo non sono ancora sbocciati. In quest'ottica cercheremo di migliorare il nostro attacco. Ho da centrocampo l'attacco io.